Tutte le tizze platte. Vos avete dei suoni di soltanto? Non so, sempre tardi nella giornata. Sono restate là durante due ore. Non penso da fare assi a molto male. Eh, scusi. Hai ragione, l'odore promette bene. Permesso. Scusa. Allora pofitta il sogno dell'��ubblico, ci non mi hanno posato grand' Heh! C'est surprinale. Un poindetto per guardare la strada confonda internamente. Non mi manca dön.. essoадцavicoлюсsico del magazino. Coz Heavenly.. Non mi scappare periods. Stai che il bene dei la figure tarpe di una cosa. Un ai un attimo che circonda. Siempre comuni. Ho una proposta君. Non mi hallow. Qu greed. Ehi, dai un'occhiata lassù, c'è una finestra... Ehi, guarda un po'. Chiusa. Non ci resta che entrare di soppiatto. Piano, piano. Era implicito nella parola soppiatto, lo sai. Ehi, Sully, che dici? Passiamo di qui? Sì, perché no? Tutto bene là dietro? Pensa per te, io ho i miei rischi. Beh, almeno il panorama è uno spettacolo. Ok, vediamo un po'. Wow, è messa molto meglio rispetto alle altre torri. È al centro della città. Scappare via col tesoro non sarà una passeggiata. Una cosa per volta. Intanto cominciamo a non attirare l'attenzione. Sarebbe storico. Sigillo di Edward England, come diceva la mappa. Che stiamo cercando? Ottima domanda. Questa torre è decisamente alta. Sì. Direi di sì. Scommettiamo che... Scommettiamo che... Una brocca. Ah, sono segni zodiacali. Il leone. Ah, e il toro? Sì, quattro, sì. Ah, e quattro campane, lassù. E questi appari al centro del pavimento sembrano blocchi. Faccio io. Dobbiamo stare in campagna. Vita. Adesso. Il posto è questo. Chiama Sam. Ok. Scorpione, acquario, leone, toro. Segreterio. Ehi, Sam. Abbiamo trovato la torre giusta. Richiamaci. I telefoni non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo. Torno subito. Ok. Cavolo. Che roba. Visto, Sully? L'orologio funziona ancora. Sì, l'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo. Non prendono. Non prendono. Visto. Sì. Andiamo a muoversi. Vero. Stai bene? Sì, ok. Ok, attento alle dita, Nate. Devo preoccuparmi? No, va tutto bene. Fidati. Questa l'ho già sentita. Leone. Difficili da domare. Ah, cavolo! Mi ha sfondato i timbani! Quella non ha funzionato, Nate! Che! 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 Scorpione. Commetto che Everi era Scorpione. Ehi, Nate! Ha funzionato! Il blocco dello Scorpione si è aperto! Ok, passiamo alla prossima! Ehi, Nate! Ha funzionato! Oh! Mi sta venendo la nausea! Ok, ci sono. Sully, notizie di Sam! Sì! Sarà benone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. Toro. I peggiori. Scrivano dei tappi! Nate, provane un'altra! Non è successo niente! Sì! Acquario? Gente simpatica. Ah! Grazie! Ne mancano altre due, ragazzo! Vediamo. Il leone è aperto! Ok, ne manca una. Andiamo! No, no, no. No, no, no. Io salgo! Ok, pierzi. Oh, meglio muoversi. È stato divertente. Wow, che bel panorama si vede da qui. È stato divertente. È stato divertente. È stato divertente. Ah, ci siamo. È stato divertente. No, 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 no. No, no. No.